salve a tutti a questo punto sono sicuro non vi sorprenderò più perché questa serie di video sta prendendo la via del CIS CIS promozione Toscana 1 e siamo giunti al terzo turno che ho giocato sempre in prima scacchiera stavolta nella ridente città di Empoli abbastanza vicino a Pistoia quindi trasferta non molto impegnativa Empoli con il suo circolo di scacchi che sta facendo favore dal punto di vista organizzativo in Toscana una piccola realtà scacchistica ma che sta crescendo a grandi pazzi grazie specialmente alla negazione di alcuni suoi organizzatori che stanno proponendo fior fior di tornei come per esempio il loro primo torneo internazionale che si svolgerà nel weekend di inizio giugno quello del ponte del primo insomma se volete farci una capatina sicuramente sarete benvenuti ok ma partiamo un po di questa partita che ho giocato contro salvadori federico la particolarità è che lui è uno che segue il mio canale quindi diciamo dal punto di vista psicologico questa partita assume un rilievo non certo irrilevante perché fondamentalmente sa quello che gioco ed è per questo che in qualche modo ho cercato di sviare un po dal mio solito repertorio d'aperture se possiamo se possiamo parlare di repertorio visto che alla fine gioco sempre la solita dannata cosa ok vediamo quindi cosa abbiamo combinato tanto giocavo come il nero e per farvi capire il livello di gioco è prima nazionale contro prima nazionale quindi partita fra pseudo pari e si comincia con federico che gioca e 4 ok vediamo un po secondo voi bookmakers a quanto davano la caro can qui la spinta c6 sentiamo un po sentiamo un po beh secondo me la davano molto molto probabile per questo motivo visto sono sicuro federico sarà preparato per questa eventualità ha giocato la siciliana c5 prima volta in vita mia che faccio questa mossa che dio me la mandi buona vediamo un po cos'è successo quindi diciamo la strategia è quella di cercare di sorprendere un po l'avversario nella speranza che si fosse studiato qualcosa per la caro ok si prosegue quindi con una siciliana aperta quindi cavallo f3 d6 e d4 il bianco va subito a spingere questo pedone al centro cercando di togliersi un pochino le preoccupazioni di avere questa minaccia incombente sulla casa d4 il cambio è ben effettuato subito e si va nella classica posizione in siciliane in cui il nero ha due pedoni contro l'uno solo del bianco al centro però il bianco avrà netto vantaggio nello svilupparsi velocemente visto che ha già gli alferi liberi si prosegue con cavallo f6 anche questa mossa tipica si va attaccare questo pedone qui ci sono vari modi di procedere quella più giocata è cavallo c3 e si prosegue quindi qui sulla principale a6 neidorf quindi variante neidorf questo pedone viene spinto in modo da bloccare l'ingresso a b5 ad esempio all'alfiere campocaro ai cavalli e nero eventualmente prepara ulteriori spinte come la spinta b5 per cercare di guadagnare spazio sul lato di donna magari quest'alfiere poi potrà essere successivamente anche utilizzato in fianchetto ora non è questo il caso perché qui si continua sulla principale questa è la variante in attacco inglese qualcosa del genere alfiere e3 questa alfiere ben qui posto diciamo chiaramente le altre case non sono così buone perché poteva venire scacciato immediatamente comunque in qualche modo il nero può avere buone partite altrimenti si prosegue con e5 ancora principale si va a scacciare questo cavallo che non potrà avvenire in f5 cosa buona sembra un avamposto perché dopo il cambio il bianco è costretto a abbandonare completamente il centro e questo pedone nero può diventare pericolosissimo si prosegue quindi con il ritiro in b3 del cavallo alfiere e6 perché da qui in poi il gioco del bianco tipicamente quello di cercare di piazzare qualcosa in d5 per arrecare danni quel qualcosa tipicamente un equino il bianco continua con don d2 ancora principale qui il bianco potrebbe arroccare lungo e cominciare a spingere i pedoni in faccia all'avversario e anche perché tipicamente del nero è più difficile che giochi sulla rocco lungo visto che diciamo questa struttura è un po' troppo colabrodo dal punto di vista difensivo ok quindi donna d2 e alfiere e7 ancora si va a giocare mosse normali ora f3 per sostenere maggiormente questo pedone e qui a questo punto diciamo che già non avevo più bene idea di cosa dovesse giocare il nero la più giocata qui è cavallo bd7 non sembra più una vista buonissima perché il cavallo un pochino più arretrato ma vediamo io ho giocato cavallo c6 e cerchiamo di capire qual è il problema di questa mossa diciamo il problema principale che il bianco qui può giocare il cavallo in d5 ok perché prima non poteva giocarlo perché l'avrei potuto cambiare senza pericolo che il pedone potesse dare un doppio una volta ricatturato ok cerchiamo di capire qual è la problematica perché chiaramente avevo previsto che potesse giocare questa mossa di fatti qui ora chiaramente se si prende di cavallo non va bene perché si becca doppio quindi il nero deve decidere o lascia il cavallo qui che potrà far sì che venga cambiato sull'alfiere questo indebolisce a bestia la difesa del pedone di dopodiché il bianco potrà attaccarlo facilmente probabilmente cade con altrettanto con altrettanta facilità altrimenti se vuole cambiare il cavallo anche perché certo quest'alfiere non si può ritirare in f8 non è guardabile come mossa quindi dovrà buttarci l'alfiere ed è proprio quello che è successo e l'idea è che ovviamente dopo la ricattura di pedone il bianco con questo pedone si blocca l'iniziativa principale che ha che è l'attacco su d6 o comunque l'occupazione dell'avamposto in d5 il problema però è dove ficcare questo cavallo avevo pensato ok d'altra parte il bianco si è un po' bloccato all'iniziativa posso anche permettermi di perdere qualche tempo con il cavallo cavallo b8 possibilità poi di risvilupparlo in attacco per queste vie sembrava abbastanza un buon piano è chiaro qui il bianco ottiene un certo vantaggio di sviluppo in questa manovra ora qui abbiamo giocato cavallo a5 forse non è proprio la migliore in effetti si poteva quasi pensare di cominciare a schiacciare il nero con i pedoni ad esempio questa avanzata in c5 sostenuta da vari pezzi bianchi poteva creare l'ultimo sfondamento per la struttura del nero questo pedone sarebbe probabilmente divenuto passato eccetera chiaro il nero ha delle contromisure ma comunque vediamo cosa è successo in partita cavallo a5 con attacco su b7 ora che fare perché un'idea può essere anche subito quella di spingere in b6 per cercare di rimandare il cavallo ammettente in caso di cavallo c6 che è il sogno proibito di questo equino sarebbe subito stato cambiato d per c e poi questo pedone diventa un po' difficile da difendere perché si butta subito la donna sopra e probabilmente non è molto utile per il bianco comunque ho giocato un'altra mossa altrettanto sensata donna c7 che difende il pedone comunque porta la donna in una posizione più attiva in previsione magari anche dell'arrocco lungo del bianco che lo porterebbe porterebbe proprio il re sull'attacco a raggi x del mio pezzo pesante e federico continua con la spinta b4 quindi sensata questa manovra in vista di attacchi sulla colonna sci il re bianco probabilmente non arroccherà mai lungo e quindi si potrà permettere eventualmente di spingere tutti i pedoni a dedosso dei miei già questo comincia a prevedere possibili spinte in c4 e successive in c5 per cercare di sfondare comunque con l'appoggio anche di un pedone in più ora qui ci poteva stare un tatticismo o almeno ci ho pensato un attimo cavallo per d5 che però purtroppo non funziona qual è l'idea quella di attirare la donna lontano dalla difesa di c3 e sembra tutto rose e fiori perché dopo donna per cavallo qua c'è donna scacco si attacca re si attacca la torre si recupera il pezzo non c'è problemi il problema è che il bianco poi attacca entrando in b7 e qui il nero deve perdere altro materiale con esso presumibilmente la partita ok altre idee quindi da valutare questa è stata scartata quasi subito ho deciso di arroccare intanto si comincia a mettere al sicuro poi una volta spostato il cavallo si potrà anche pensare attaccare questo pedone chiaro che la cosa non mi verrà lasciata fare alfiere 2 d'altra parte del bianco questo punto vorrà arroccare corto questo dal punto di vista strategico mi indica che ci saranno possibilità di attacchi potendo sfruttare la diagonale campo oscuro visto che ancora ho l'alfere campo oscuro il problema principale in qualche modo dire a quest'alfere di non stare piantato dietro i piedoni o dietro i cavalli ma riuscire a farlo venire fuori a spazzar via questa timidezza che lo sta attanagliando ok si prosegue quindi con cavallo bd7 il cavallo viene portato fuori ora qui vedrete come sono bravissimo a perdere tempi in questa situazione quando vengo un po schiacciato tendo tipicamente a usare la difesa della tartaruga cioè quella di rimanere accartocciato il più possibile cercando di sopravvivere pregando caissa non è detto che funzioni più delle volte non funziona l'altra idea poteva essere giocare subito b6 come visto in precedenza per togliere questo cavallo di mezzo ad ogni modo vedremo che la situazione comunque rimane non buona per il nero ma sostenibile è chiaro che dopo cavallo bd7 questa spinta non funziona più tanto bene perché il cavallo si infila nel suo avamposto preferito che aveva fin da bambino ok quindi cavallo bd7 appunto giocata il bianco a rocca corto come previsto e qui si poteva forse pensare di giocare cavallo b6 il problema è che si attacca questo bel pedoncino ma il bianco aveva nella canna già di giocare c4 qui la giocherebbe a maggior ragione proprio per difendere il pedone ora non si capisce bene questo cavallo che ci stia a fare anzi sembra quasi un'esca per un'ulteriore spinta con guadagno di tempo del bianco ecco perché gioco torre fc8 quindi porto questa torre comincia a far pressione su questo pedone pressione abbastanza vana perché il pedone viene giocato sul c4 ad ogni modo la presenza di questi pezzi potrà forse aiutare a difendere la casa c5 che è sempre abbastanza utile come cosa visto che il bianco dovrà spingere se vuole sfondare le mie difese cavallo b8 ecco qua un altro tempo perso in teoria l'idea è quella di nuovamente di spingere b6 in modo da rendere sicurissima la casa c5 e levarsi di mezzo anche questo fastidioso cavallo torre a c1 sempre per sostenere future spinte e b6 come previsto il cavallo rientra in b3 e ora cavallo bd7 nuovamente questo cavallo sta facendo il vars notate come sono ancora chiusissimo in difesa non si capisce bene come questa alfiere possa in qualche modo respirare ma vabbè a questo punto viene giocata torre fd e qui il bianco prepara un'altra minaccia quella di attaccare a raggi xd6 questo perché al momento sembra che la spinta in c5 non sia fattibile per il bianco perché il nero ha veramente n1000 difese tuttavia se cattura con questo pedone col pedone d6 poi il bianco potrà spingere dal doppio con il pedone d e questo avendo due difensori è sufficiente a guadagnare materiale ora qui forse si poteva in qualche modo ignorare questa minaccia per il momento ad esempio potevo giocare h6 cercare di bloccare un po iniziativa di questa batteria eccetera perché in caso di spinza c5 c'è comunque b per c b per c e chiaramente qui non d per c perché sennò c'è il doppio ma piuttosto forse andava spostato l'alfiere certo non una posizione facile da gestire anche questa per il nero ecco perché ho deciso di difendere d6 nel modo più plateale possibile riportando un altro cavallo prima traversa vediamo se questa strategia della testugine funzionerà ok il bianco prosegue con f4 prova a sfondare e5 anche perché per ora la spinta in c5 proibita si prosegue con donna d8 sposto la donna via da questa colonna tanto davanti alla torre non funziona tanto come primo pezzo difensore meglio lasciare la torre da sola e questo magari potrà anche servire per sviluppare l'alfiere ora con questo pedone qui no però magari si potrà tentare qualcosa in futuro si prosegue con alfere g4 inchioda il cavallo sulla torre quindi nuovamente si prospetta maggiori possibilità della spinta c5 anche in questo caso altre idee che poteva avere il bianco magari ad esempio spinta a4 a5 con l'intento di togliere di mezzo il pedone b6 che sta difendendo c5 per esempio comunque a questo punto riporto il cavallo da e in f6 per attaccare l'alfiere ancora una volta il bianco non ha tempo di spingere perché c'è questo pezzo in presa l'alfiere si cambia sul cavallo riprendo di cavallo mantenendo le solite idee a questo punto è possibile spingere in c5 ancora no perché in caso di spinta viene la sufficiente difesa su c5 può giocare ad esempio b per c ora il bianco può provare a cercare l'accerchiamento su f6 ad esempio con f per e però il nero insomma continua a mangiare tutto un magna magna e non si sa bene come va a finire comunque il nero è quello che ha mangiato per primo e come sappiamo chi mangia primo gode il doppio di solito comunque a parte queste elucubrazioni scientifiche qui federica ha giocato donna f2 nuovo piano forse c'è un attacco qua però per l'ora è difeso dai miei pezzi l'altra idea è quella magari di sfondare sulla colonna f vediamo quindi cosa è successo qui cerco di cominciare a cambiare pezzi e l'idea principale è quella di togliersi di mezzo questa feraccio che è stato qui tutta la vita a non fare un bel niente a questo punto è l'ora che cominci a darsi un pochino una mossa quindi f per e4 qual è l'idea quella di cercare di attirare un pezzo bianco in f4 se prende di donna posso pensare di crearmi questo appoggio in g5 con h6 per giocare l'alfere su questa buona diagonale eventualmente cambiarlo per quello del bianco un caso di torre f1 con minaccia su f7 si può giocare cavallo e5 idea anche di dare doppio volendo e inoltre si minaccia anche alfere g5 quindi qui forse il nero riesce un pochino a respirare questo cavallo tra l'altro blocca anche l'iniziativa della donna su d6 ad ogni modo federico viceversa prende con l'alfere alfere per f4 comunque l'idea quella sempre di giocare alfere g5 si va a inchiodare l'alfere sulla torre a questo punto l'unica mia paura era che potesse sacrificare la qualità per sfondarmi pedoni semplicemente con alfere per d6 questa poteva funzionare però dopo la cattura torre per c1 e cavallo f6 il nero attacca di scoperta l'alfere quindi il bianco è costretto in qualche modo a difendersi e non giocare attivamente inoltre il cavallo ottiene un fermo su d5 in caso di spinte c5 ok qui il bianco potrebbe riuscire anche a sfangarla però non è detto che sia così facile ad ogni modo viene semplicemente spostata la torre in f1 con idea di attaccare in f7 quindi magari ora il bianco minaccia di attaccare f7 di scoperta catturando in g5 ecco perché cambio subito l'alfere tanto lo scopo del mio alfiere ormai nella vita era quello di darsi per quello molto più attivo dell'avversario donna per f4 e qui ci sono vari modi di difendere questo doppio attacco io ho scelto cavallo e 5 perché mi sembrava un pochino quella più attiva ok però che questo cavallo sta difendendo c5 ora non lo difende più però la mossa è abbastanza adeguata perché copre f7 inoltre questo cavallo è molto minaccioso c'è la possibilità di dare questo doppio chiaramente non subito perché sennò il bianco entra in f7 ma comunque l'idea ci può stare ora cosa succederebbe in caso di c5 allora intanto b per c si può fare dopo b per c sembra che il nero abbia problemi a difendere questo pedone che il cavallo potrebbe cadere però c'è donna e 7 per esempio che difende il pedone e ora difende anche f7 si minaccia al doppio quindi il bianco dovrà reagire in qualche modo difendendosi non può spingere ad esempio in c6 che sarebbe buono per ottenere questo pedone passato perché per appunto cavallo d3 incombe come un mascigno e quindi viene giocata torre c3 per toglie il problema dell'attacco doppio questa torre continua a proteggere il pedone si prosegue con torre a 7 prova a ricircolare la torre ad esempio sulla colonna e qui può essere un'idea torre fc1 raddoppio quindi nuovamente c'è preoccupazione per questa spinta non è detto che sia ottimale perché se la torre va a difendere il pedone spostandoci poi c'è ancora il doppio qua in d3 quindi per il momento il nero dovrebbe poter reggere ma la sorpresa principale è stata che a questa mossa Federico ha offerto la patta e effettivamente per come l'avevo sfangata fino ad ora non potevo certo rifiutarla quindi ho accettato dopo averci pensato due minuti tanto ok mi sono un po sbloccato in questa posizione ma se qui c'è qualcuno un vantaggio anche solo per lo spazio certamente il bianco e ad ogni modo avevo anche poco tempo sull'orologio questo sì poteva essere il vero problema di questa posizione ok come avrei potuto continuare ad esempio torre 7 era probabilmente l'idea che avevo in mente anche nuovamente se il bianco prova a spingere ci sono vari problemi perché b per c b per c e qui si può anche giocare d per c in ogni caso questa torre non può catturare potrebbe catturare il cavallo ma allora ci sta il cambio e poi doppio forse comunque varie possibilità tattiche per il nero che sta attaccando anche d5 probabilmente la spinta c5 qui avrebbe forse fatto addirittura passare nero un vantaggio ad esempio torre per c5 torre per c5 cavallo per c5 ancora difende chiaro non si poteva dare subito il doppio perché c'era la minaccia di cattura in c8 e poi successiva minaccia sulla donna e ora però il nero prende in d5 comunque qui sta decisamente meglio ok chiaro il bianco non era obbligato a spingere in c5 la partita sarebbe andata avanti e chissà probabilmente avrei finito il tempo ok quindi il risultato finale di questa partita tra pistoia c e empoli è stato di due a due quindi siamo divisi i punti e chissà c'è ancora un altro turno abbiamo ancora possibilità di essere promossi in serie sci vediamo però siamo un pochino svantaggiati perché c'è una squadra che ha mezzo punto in più e quindi vediamo un po come va a finire ok quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo a presto e ciao ciao